Il taekwondo non è mai stato visto come sport violento, è stato visto come uno sport di difesa personale perché nella sua indole come arte marziale prevede la difesa della persona. Poi è avuto un'evoluzione sportiva e questo sta prevalendo, facendo veramente capire quali sono le caratteristiche di questa disciplina. Il taekwondo nasce sin dall'inizio, dal suo inserimento nel programma olimpico come lo sport delle pare opportunità, nel senso che tutti i regolamenti della Voltaekwondo a livello olimpico prevedono sempre le stesse caratteristiche sia nello sport maschile che femminile. Le categorie sono presenti a livello olimpico, 4 maschili e 4 femminili, gli ufficiali di gara che dirigono questo sport a livello olimpico devono essere 50% uomini, 50% donne, nasce nell'impostazione proprio come pare opportunità, quello che il CIO richiede allo sport oggi noi sin dall'inizio l'abbiamo applicato, perciò questo viene avvertito in modo positivo dal mondo femminile. Noi iniziamo, come dire, la nostra preparazione olimpica dai bambini al di sotto dei 10 anni, cioè nell'individuare quelli che sono poi gli atleti che hanno la predisposizione, le caratteristiche fisiche per diventare dei campioni, perciò non si può assolutamente trascendere dal fatto di curare quello che è lo sport giovanile. Il taekwondo non è solo fisicità, è soprattutto uno sport che richiede grande preparazione mentale, autocontrollo, questo è un valore aggiunto che il taekwondo dà ai ragazzi, soprattutto i genitori ne sono consapevoli e possono avere in questo sport anche uno strumento educativo molto ma molto importante. 2020 a Tokyo sarà la prima volta che il taekwondo viene inserito nei giochi paraolimpici, questo è un grande risultato ottenuto in pochissimi anni da parte della federazione internazionale e basti pensare che in pochissimi anni, da poche decine di atleti, oggi siamo arrivati a centinaia di atleti che disputano i campionati. C'è un trend sempre in crescita come federazione che viene rispettato anche quest'anno, sicuramente le attività apportate nel nostro paese, come il Grand Prix di Roma che abbiamo fatto all'Aforitalico, che è un evento a livello mondiale veramente importante, sta andando anche suoi frutti come veicolo promozionale per la nostra disciplina. In Italia siamo intorno a 28 mila tesserati agonisti, questo numero importante, considerando che ci sono circa 550 club ufficiali affiliati alla federazione, poi tra questi hanno il loro distaccamento, cioè è una realtà importante a livello nazionale.